Ma i soldi del MES servono o serve avere dirigenti più preparati? Cioè la questione dei soldi nella sanità è sopravvalutata? Cioè il problema è che li spendiamo male e i dirigenti non sono sempre all'altezza? O comunque avere 36 miliardi? Dice certo, è chiaro che... Ma vale la pena indebitarsi ancora per quei soldi? Dicevo prima, i dirigenti sono davvero importanti e quindi dobbiamo selezionarli meglio perché quelli fanno davvero la differenza. Ci sono tanti esempi proprio anche di ospedali che in queste situazioni difficili hanno formato dei medici e dei tirocinanti per andare sul territorio e fare esattamente quelle cose, per cercare di fare un filtro prima che le persone arrivino agli ospedali. Ci ho detto che i soldi servono, certamente non sto dicendo che non servono, anzi noi dobbiamo spendere di più per la sanità. In Italia dobbiamo spendere di più per la sanità. Però vorremmo che chi spende fosse selezionato con criteri... Dovremmo spendere anche un punto e mezzo, anche a regime, e soprattutto in questa fase dobbiamo spendere di più. Insomma, perché non avevamo i tamponi rapidi nei pronti soccorso? Lì diventano dei focolai, perché se la gente deve stare tutto il giorno ad aspettare il risultato del tampone in un pronto soccorso... Altra cosa...